Siamo al rush finale per il referendum sulla fusione per incorporazione dei comuni di Pesero e Monbaroccio. Domenica 17 aprile le urne saranno aperte dalle 7.30 alle 23.00. Due seggi saranno allestiti anche nel comune di Monbaroccio. Gli elettori dei due comuni saranno chiamati a rispondere al quesito Vuoi tu che il comune di Monbaroccio sia incorporato nel comune di Pesero? Gli elettori dovranno barrare il sì o il no. Dopo aver sentito nei giorni scorsi le dichiarazioni delle parti del sì, oggi ascoltiamo le ragioni del comitato per il no. L'accordo politico di cui tanto stanno parlando i due sindaci Vichi e Ricci, siglato tra di loro, è un accordo che non ha nessun valore giuridico, non è stato recepito nei relativi, nei rispettivi consigli comunali, quindi tanto o meno in uno statuto che ancora non è stato modificato e non è supportato dalla normativa nazionale, in quanto prevede, a nostro avviso, degli elementi di illegalità. Pesero non vuole essere vincolato ad uno statuto, a delle garanzie che oggi in campagna elettorale promette, ma che sa benissimo che non potrà mantenere. Quindi l'unica cosa certa è che Monbaroccio sparirà all'indomani del voto, se nella malaugurata ipotesi in cui dovesse vincere il sì, e di conseguenza noi non conteremo più niente, perché anche il municipio di cui tanto parlano è una scatola assolutamente vuota, non ha personalità giuridica, non ha un budget, non ha un bilancio, non ha nessun tipo di autonomia, di conseguenza questo significa che chi deciderà per noi, anche se asfaltare o chiudere una buca, sarà semplicemente il comune di Pesero. E io chiedo e insisto nel ribadire di votare no domenica 17 aprile. Che chi ha fatto questa scelta è il nostro sindaco Vichi, senza consultare e confrontarsi con le minoranze come è giusto che la decomunacrazia richieda. Ho fatto presente, fra le tante difficoltà che ha avuto la nostra amministrazione, quella del piano di sviluppo rurale che riguarda e caratterizza il territorio monbaroccese. La delibera regionale che mi sono portato dietro e che mi sono studiato, quest'anno non ha previsto stanziamenti, ma ha sempre previsto stanziamenti per i bandi che gli agricoltori avevano bisogno di fare per lo sviluppo dell'attività, e delle loro attività e dello sviluppo anche dei giovani che vogliono intraprendere lo sviluppo agricolo del territorio. Tant'è che lo stesso Stato prevede che i prossimi dieci anni il PIL sarà fortemente indirizzato, sarà fortemente caratterizzato dello sviluppo agricolo. E quindi per noi potrebbe essere un forte vantaggio. Quello che è emblematico, che non capendo quello che è stato espresso da me, da minoranza in assoluto, per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale, da parte del sindaco, vuol dire che non ha chiaro che cos'è lo sviluppo rurale di un territorio. Non avendo chiaro cos'è il territorio, è il passato che ha caratterizzato il territorio, tantomeno avrà meno chiaro il futuro del nostro territorio. Per tutto questo, per tutto quello che avete sentito in questi giorni, vi chiedo di votare no all'incorporazione. I finanziamenti dello Stato non sono certi. Questo perché la legge parla chiaro, dice che ogni comune può ricevere il 40% dei contributi che ha avuto nel 2010. Però ogni anno questi soldi vengono finanziati dalla finanziaria, vengono decisi dalla finanziaria, dalla legge di stabilità che fa il governo. E quindi tutti vanno a pescare in questo fondo. Se ci sono molti comuni che vanno a prelevare, chiaramente non bastano per tutti. È un'illusione dire che prenderemo 2 milioni all'anno per 10 anni, perché dipende da quelli che vanno a chiedere i soldi e quelli che hanno diritto di averli. Quindi secondo noi questo è un punto fondamentale. I soldi non ci saranno, perché non basteranno sicuramente per tutti. Quindi noi siamo dell'idea che sia più conveniente continuare con il discorso delle unioni, perché con le unioni si riescono a fare le stesse economie di scala che il governo ci chiede come con le fusioni. Si riescono ad ottenere contributi, sempre da quel fondo che dicevo prima, contributi su progetti comunitari, e però nessuno perde l'identità. E soprattutto, oltre a non perdere l'identità, non si perdono mille anni di storia facendo una croce su un pezzo di carta. Per votare sono necessari tessera elettorale e documento di riconoscimento. Per chi ne fosse sprovvisto potrà recarsi all'ufficio elettorale centrale di Pesero, in via Domminzoni 3, e l'ufficio elettorale di Monbaroccio sarà a disposizione per informazioni e tessere.